Sta letteralmente bruciando la California negli Stati Uniti d'America, un devastante incendio ha letteralmente messo in ginocchio il nord di questo bellissimo stato intorno a Redding. Già due le vittime sarebbero distrutti 500 edifici, altri 5.000 sarebbero a rischio, tanto più che il caldo e il vento continuano a provocare ingenti danni. I pompieri faticano ovviamente a domare l'incendio contenuto solo ad un 5% circa. Gli sfollati a Redding sono 38.000 circa su 90.000 abitati. Il Carfire in tre giorni di tempo ha bruciato già un'area di più di 20.000 ettari. Il vigilaggio di Keswick di 450 abitanti oramai è un vago ricordo, un vaghissimo ricordo. Il caldo, la siccità, i venti forti stanno letteralmente rendendo particolarmente difficoltoso il lavoro dei vigili del fuoco che ovviamente vogliono spegnere gli incendi, visto che è considerato che si chiama che è questo il loro lavoro. 3.400 vigili messi in campo senza sosta di sorta per domare le fiamme e per spegnere gli incendi e per regolarizzare la situazione in questione. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto. Il video termina qua. Iscrivetevi se volete commentare. Un saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.